Alla vigilia dell'anniversario del 25 aprile della liberazione è stato restaurato proprio il monumento che si trova qui a Poggio del Sole davanti al palazzo del governo, alla prefettura. Per l'usura erano rimaste solamente sette lettere di questa scritta, il popolo delle vallate retina e i caduti per la resistenza e le lettere sono state ricomposte ma è stato proprio restaurato completamente questo monumento. Erano state divelte anche da alcuni vandali che si erano accaniti su questa struttura, quindi non solo le intemperie ma anche atti vandalici che purtroppo prendono di mira, non è il primo caso, anche i monumenti della memoria. Comunque il monumento è stato restaurato e quindi nella giornata di mercoledì potrà come al solito esserci il cerimoniale al gran completo con il monumento restaurato. E' stata tagliata anche l'erba e dunque l'aria è decisamente più decorosa e sono stati eliminati anche quei possibili anfratti dove negli anni purtroppo sarà registrato troppo degrado.